Siamo con Antonio Di Nardo, oggi è la tua giornata, quindi commentiamo anche questa vittoria, corsa conclusiva, hai vinto con Ulisse F, tra l'altro arrivo bellissimo, molto stretto, dove tu hai avuto la meglio ovviamente. Sì, il cavallo è da tempo che sta correndo bene, oggi la distanza ci ha aiutato tanto perché sai, siamo rimasti un po' indietro con la resa dei metri, poi la corsa è venuta bene, è venuto un po' mosso all'inizio e da ultimo lui ha fatto valere un parziale superiore, diciamo che a denti stretti abbiamo stampato quello davanti. Bene, così concludi come dicevamo questa giornata, farei anche un ringraziamento e anche complimenti al team. Sicuramente, i complimenti vanno soprattutto a Gennaro Casillo che mi presenta sempre i gol in ottima condizione. Grazie ancora e ringrazio Antonio Di Nardo e dalle scuderie per oggi è tutto.